Ma l'Inter, ma l'Inter, ha già vinto lo scudetto? Ora vi dico la mia, ben ritrovati nel video comunque ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate la campanella e le notifiche, mi raccomando, se non siete ancora iscritti ovviamente E vi auguro buona Pasqua, vedete il video precedente appunto sui auguri a voi e alla famiglia sulla Pasqua Allora raga, intanto diciamo che l'Inter secondo me ha già vinto lo scudetto, motivo e niente, allora Secondo me l'Inter ha già vinto lo scudetto perché comunque il distacco della seconda è ampio, sono già 8 punti dal Milan con una partita da recuperare contro il Sassuolo Che secondo me vincerà e quindi andrebbe già più 11, la Juve è vera due partite in meno però sempre, cioè anzi scusate, una partita in meno E in caso dovesse vincere con quella partita contro il Napoli, che è difficile, ok ma anche l'Inter è un a meno quindi non capirebbe diciamo nulla Anche perché la Juve è a meno 12, metti che vince con il Napoli e va a meno 9, l'Inter vince con il Sassuolo e rimangono a meno 12 Quindi l'Inter secondo me ha già vinto lo scudetto ma anche per la Rosa perché la Rosa dell'Inter è veramente ampia Già la squadra titolare è fenomenale secondo me, tipo, cioè secondo me ha il difensore più forte della Serie A Il centrocampista più forte della Serie A, l'attaccante più forte della Serie A, ovvero Bastoni, Barella e Lukaku Più tutti gli altri, più la panchina, più tutto, più l'allenatore Antonio Conte Cioè veramente l'Inter ha una rosa ampia, forte, forte, la più forte del campionato Approfitta anche dei passi falsi della Juve che pareggia ieri a Torino Poi fa troppi passi falsi la Juve quest'anno, pareggio col Crotone, perso col Benevento Cioè troppi, troppi passi falsi, poi nello scontro diretto con l'Inter ha perso 2-0 Non scendendo neanche in campo praticamente L'Inter ha asfaltato la Juve quindi secondo me lo scudetto dell'Inter ha asfaltato anche il Milan 3-0 Cioè questo Inter veramente infermabile e viene da una serie di vittorie consecutive pazzesca Mi pare 8 partite, no 6 o 7 partite vinte di fila l'Inter Non, cioè l'ultima volta che non ha vinto l'Inter è stata la partita contro appunto Contro l'Udinese, finita a 0-0, una partita stregata veramente E c'è da dire che l'Inter è vero, ha ancora 3 scontri diretti importanti Quello contro il Napoli, quello contro la Juve, quello contro l'Atalanta Sì, quello contro... no scusate, scusate Napoli, Roma e Juve Quindi sono altri 3 scontri diretti E' impossibile che le perde tutti e 3 Quindi anche... cioè dai, è veramente impossibile recuperare quest'Inter Come abbiamo già detto per la Rosa, per il vantaggio che ha in classifica Non si ferma più l'Inter, non si ferma più! Non si ferma più! E secondo me in queste 3 partite l'Inter farà 7 punti, 2 vittorie e un pareggio Che sarà secondo me, sempre secondo me, ovviamente contro appunto il Napoli Comunque raga, per questo video è tutto E fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questa magica Inter quest'anno E vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale Lasciate un bel like, attivate la campanella Buona Pasqua, condividete il video E noi ci vediamo presto video Un saluto e ciao!